cornice di strambi cappellini alla vasca centrale della piscina delle rose i pittarri copricapo celano un tipo d'eccezione sono di fronte sui 100 stile libero Paolo Fucci campione d'Europa e Fritza Zannerlein primatista europeo a Parfana Fucci lo vediamo in seconda corsia Zannerlein in quella in primo piano i due campioni si impegnano a fondo alla virata Fucci prende un lieve vantaggio impressionante quasi irrabbioso il ritorno di Zannerlein che si appianca all'europeo Fucci ai 75 metri non com'è nel suo stile aumenta la bracciata riacquista un corto vantaggio tocca per primo ma che scherzetto volevi combinarmi protesta Paolo Fucci